Salve a tutti e bentornati a Party Hard Continuiamo la nostra avventura Ah, una festa sulla barca Interessante Ah, sempre solo uno Chissà come... Si sbloccano gli altri Mmm, là già vedo un buttafuori Ma la cosa non mi piace Ahà Una sedia Forse Oh, 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 oh Mmm, non li posso buttare di sotto Ah, che peccato Vediamo un po' Mmm Forse Oh Cacchio Ah Fermali No, 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 no No, 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 no Ah Dannazione Ah, già mi ha visto No, 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 no Ah, iniziato a ruivare male Dai Ok ok Niente panico ce lo possiamo fare Tutta quella gente là che valla Allora c'è un Amplificatore laggiù Non so se Chissà se c'è qualcosa di completamente mortale Lo stesso vale No Questa non sembra che faccia nulla Allora vediamo che cosa c'è nella valigetta Stumbomb Non so non penso che Ah questa mi porta qua sopra Però da sopra non c'è il buttafuori Non c'è più l'amplificatore però No 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 Non abbiamo bisogno Qua non si può avvelenare nulla Ah qua sopra Non lo so se Ho fatto bene a stortirli Infatti Qua dove mi porta Oh 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 Ah questa la vedo difficile Perché non vedo molti modi Per ucciderli Che cosa stanno facendo Quei poliziotti là Ah mi sa che quella è proprio una bomba però Ma cavolo Ah no no Sempre Cioè ma nell'acqua Ma c'è C'è l'impossibile nell'acqua Chi è stato? No Non sono mica stato io No non penso ce l'ha bene con me Cavolo non so come fare A uccidere tutta questa gente Qui c'è un telefono ma non Non c'è neanche l'uomo misterioso che vende Chi è questo? Oh cavolo Chi è questo? Chi era? Vabbè tanto oramai lo sanno Tanto vale che mi do A follia omicidia Oh oh Ok arrivo alle spalle Salve signorina Ok ammetto che non è la maniera più elegante Per fare il livello Però penso Ah cacchio Ah proprio chiuso Ah questo non ci voleva Ah ops Dai non ce l'ha con me tanto no Oh cavolo No no Scappa 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 Ah ce l'ho quasi fatta Ah Hop Hop Ah non rinuncia questo Hop Ah ok Uff Ci siamo andati vicino Quello conticata che li sta portando Insieme Dai ha chiuso oramai tutti i passaggi Quindi adesso la cosa sarà Praticamente impossibile Non posso più scappare dalla polizia Ah no forse ce n'è ancora uno No Adesso vuol chiudere anche quello Cavolo Però non ne mancano tanti No no Non chiamare la polizia Ah dannazione Dove sta andando Sopra Andiamo sotto Ok Vediamo se qualcuno Lo possiamo buttare qua sotto Oh 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 Ah Finalmente Sono andati anche loro Quanti ne mancano Quattro Ok Non dovrebbe essere una cosa tanto difficile C'è giusto il clown Ok Oh beh Si Diciamo Non è stata la maniera più pulita di farlo Ma Non sono riuscita a trovare Da forse c'era un metodo Non lo so Wow Ah Ah Yes I heard about the cruise liner disaster Although I assume it wasn't the rushing water that killed those people As the news had us believe Sometimes it's easier to keep the people safe by shielding them from the truth Yes Well that's an interesting sentiment Although I'm guessing the people on that boat may have felt a bit shortchanged Though while we're on the topic of truth You were about to discover a truth of your own Am I right Mr. West? The girl Yes The girl Tell me about the girl Mr. West From what I understand She'd been following him Since he first began his descent to madness Stalking him perhaps Label it what you want Seems like she was A fan of his work Aha Colpo di scena Ok Il prossimo è Miami Party Che faremo la prossima volta Bene Grazie a tutti E ci vediamo la prossima volta con un altro episodio di Party Hard Ciao 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 Ciao